marmo e walter zurai portandoli suoni nuovi e freschi in italia che ancora non ci sono e se ci sono sono copiati da noi marmo è un nome che è stato ripreso da piccolo giù nel parchetto in zona mi chiamavano marmocchio un po per la mia statura un po perché non ero poi così bello e marmocchio marmocchio è diventato si è tramutato in marmo e lo porto davanti e stiamo cercando di spingerlo bimbi per sempre nasce che un giorno andai in studio da walter e avevo un super beat una roba molto figa e in mente mi risuonava questa roba dell'essere bimbi a rimanere appunto bimbi per sempre e bimbi dentro è nata spontanea non è stata una traccia di quelle studiate a tavolino è nata così bimbi per sempre abbiamo incontrato majin due tre giorni dopo il studio preso benissimo dalla traccia e che il featuring è nato naturale perché anche lui comunque è come noi un bimbo vero walter zurai è uno dei produttori più bravi secondo me in italia nell'ultimo periodo insieme stiamo seguendo questo progetto appunto di marmo e walter zurai portando suoni nuovi e freschi in italia che ancora non ci sono e se ci sono sono copiati da noi ci sta un intero team appunto ci sono le strumentali di walter l'idea dell'immagine della realizzazione del video curata da da ismo l'egiziano del glock ci sta un intero staff che sopporta tutto mega manuel elisa e tutti i ragazzi che sopportano questa realtà non ti nego che è difficile ma ce la possiamo fare ce la possiamo fare sono tutti quanti in gamba senza di loro il progetto marmo sarebbe zero quando entro su insta tutti i pazzi ste tipe che copiano chiarannasti mi mettono segui che danno ricambi dai su no mi sento un artista trap mi sento un artista senza non voglio accollarmi questa roba del trap cioè perché se io un giorno voglio fare trap mi sveglio e faccio trap un giorno voglio fare pop faccio pop non voglio avere questa etichetta non sono trap latin rap appunto un genere che è stato creato circa un anno e fa da me e walter strani con questi suoni latini tendenti alla alla mumba purtroppo non abbiamo avuto la giusta comunicazione per dire in italia siamo noi a portarla siamo noi primi a farlo tutti tutte le storie successe che man mano gli artisti che anzi produttori non gli artisti che vedevano cercano di fare quella roba lì alcuni ci saranno anche riusciti a farla bene forse anche meglio di noi però sicuramente sarà una questione legata solo che esclusivamente ai numeri ma vi assicuro che siamo stati primi a farlo e su youtube le date parlano chiaro tranquillo frate l'ultimo bridge l'ultimo pezzo di tranquillo frate era già a lati ora per sé wow un gruppo un collettivo di ragazzi spingono e che credono fermamente in tutto ciò che circonda la musica dalle produzioni non per forza mia anche quello degli altri al merchandising alla promo all'ufficio stampa alla comunicazione che abbiamo live tutto tutto l'insieme appunto e wow un talent la prossima forte tendenti al barocco l'arte dell'esagerazione innovativo e inventivo sbacca punchliner portatore di moda bello a tutti gli ascoltatori delle frasi del rap questo è marmo andate a trovarmi ovunque su instagram marmo off su facebook marmo su youtube marmo devo l'unico canale ufficiale seguitemi ascoltatevi per sempre porteremo roba nuova in italia presto fuori tantissima roba figa grazie